ciao liliana se vola dai patrick ce l'ha fatta eh è anche il secondo decollo questo carabinieri no perchè non è stato bravo se non è stato molto bravo c'è un panorama pazzesco un bel vuoto d'aria una bella smiricina va bene adesso qui guardiamo la patenza si tolto molto saluta bene ciao a tutti il secondo step là saluta saluta